Se un fumaruro purtroppo questi valori non mi piacciono proprio. La situazione, glielo dico sinceramente, è grave. Dottor, cosa dicono gli esami? Cosa dicono gli esami? Che non va, la situazione è molto grave. Non sapremo più avanti come si evolverà. Comunque io gli ho prescritto delle sedute di fanghi e soprattutto di sabbiature. Ma dopo starò meglio, dottore? Questo non lo so, però vedrà si abituerà a stare sottoterra. Sottoterra? Sottoterra, visto la stazione per sé. Comunque, non si piove, è tutto a posto. La salute. Arrivederci. Grazie. Prego. Arrivederci.